I borghi d'Italia con 9 milioni di visitatori contribuiscono per oltre 5 miliardi di euro all'anno all'economia italiana come attrazione turistico-culturale. È quanto emerge da un'analisi di Deloitte secondo cui i visitatori complessivi sono stati nel 2022 quasi 9 milioni per un totale di 21 milioni di pernottamenti. Si stima che il turismo nei borghi abbia sostenuto nel 2022 oltre 90 mila occupati e abbia avuto un importante effetto positivo sulle entrate fiscali a livello nazionale pari a più di 2 miliardi. I settori maggiormente impattanti sono alloggio e ristorazione, commercio e trasporti beneficiando di circa il 60 per cento dell'impatto totale. Le località certificate dall'associazione I borghi più belli d'Italia sono attualmente 362 diffuse su tutto il territorio nazionale. A fronte dell'impatto economico e sociale evidenziato i borghi sono però caratterizzati da un accentuato fenomeno di spopolamento molto maggiore rispetto alla media dei comuni italiani. Il Ministero del Turismo sta investendo nel settore con il recente finanziamento da 34 milioni per i 101 comuni.